una fiamma al giorno, energie del 22 di febbraio, scegliete la vostra variante corallo ametista luna chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 22 di febbraio per tutte le tre varianti ok, allora vediamo un po' il significato di questa carta in base a quelle successive perfetto, allora qua mi stanno dicendo che c'è una situazione che deve essere ancora portata a termine una situazione del passato riguardo o a un'unione o a una persona, un femminile che deve essere ancora gestita e alcuni conflitti devono essere ancora sanati, lasciarsi alle spalle con un'azione concreta qualcosa che ci parla di un conflitto del passato, però c'è l'energia della manifestazione quindi cosa vuol dire che questo è qualcosa su cui vi viene richiesto di operare in maniera concreta ecco ci può essere una svolta proprio se vi prendete carico di questa situazione con gesti concreti, non aspettandosi che magari lo risolva qualcun altro infatti qua mi sta dicendo che questo blocco può essere superato questo blocco del passato può essere superato attraverso l'energia dell'amore quindi potrebbe anche essere che magari ci sono dei conflitti con una persona amata e quindi siete chiamati proprio a risolvere con l'amore questo conflitto oppure basandosi su quello che è il sentire interiore lasciare andare il passato conflittuale quindi anche una persona legata magari fisicamente a voi ma ecco un qualcosa che deve essere lasciato diciamo nel passato ma attenzione sempre con amore questo non significa che io decido di punto in bianco no questa persona non la voglio più è un lavoro energetico che va a creare armonia laddove c'è conflitto quindi quella situazione evidentemente karmica si scioglie armonicamente quindi non crea ulteriore karma attenzione a queste cose perché è importante vediamo un po' sì sì qua richiede proprio un'azione concreta quindi qua ci vuole un maschile consapevole un'energia maschile consapevole che porti cambiamento porti una svolta in questa situazione o per recuperare una persona del passato a cui si tiene oppure per terminare armonicamente un rapporto che è stato sempre solo conflittuale ma che ha avuto ovviamente una lezione da farci imparare ed è quella che imparandola scioglie il legame ametista, cavalieri pentacoli, perfetto qua mi stanno dicendo che c'è qualcosa che si muove riguardo a una situazione che vi ha fatto soffrire da tanto e che desiderate lasciarvi alle spalle ancora c'è un po' di sofferenza ma comincerete proprio a muovervi questo potrebbe essere riguardo a una persona amata qua c'è un femminile che amate oppure se siete un femminile voi siete amate e quindi ci sarà qualche cambiamento su una situazione che ha creato un pochino di sofferenza in passato vediamo un po', si si entrate nell'energia della gratitudine siate nell'energia femminile regale, quella sacra attraverso appunto la guarigione del cuore rimanete nel cuore rimanete nell'equilibrio rimanete nell'energia nella vostra sovranità perché qualcosa si sta muovendo qualcosa si sta sbloccando vediamo un po' riguarda un'unione un'unione o comunque una situazione che ritrova l'armonia e una sorta di chiaramente potrebbe anche essere situazioni con colleghi non è che tutti devono avere problemi d'amore ma ecco potrebbe essere che magari che ce ne so c'è stata una frattura o in famiglia o sul lavoro ecco c'è una ricomposizione un'unione che ritorna ovviamente può essere anche d'amore e la luna ok uh caspita qua c'è qualcosa che ci riguarda la coppia qualcosa riguarda la coppia abbiamo una consapevolezza di quello che dobbiamo fare per realizzare la coppia qua c'è una saggezza che ci sta parlando siamo pronte ad ascoltarla? questa è la domanda perché ci si deve muovere ok qua mi stanno dicendo che è un dono un dono che vi porterà a intraprendere una nuova una nuova fase della vostra vita qua ci si inoltre in acque sconosciute nuovi viaggi con immense possibilità ascoltate la papessa la voce dell'anima perché lei guida e vi porterà laddove non osate nemmeno immaginare vediamo un po' eh sì guardatela qua la luna saper ascoltare la voce dell'anima grazie